FOTO STOP E poi ripartite sul 5, 6, 7, 8 Stop! 5, 6, 7, 8 Stop! 5, 6, 7, 8 Stop! 5, 6, 7, 8 Ok ragazzi, avete visto? Non è difficile ed è molto divertente L'importante è essere sempre super sincronizzati Dobbiamo fare un sacco di foto Quindi attenzione, mettetevi in posa ad ogni Stop! 5, 6, 7, 8 E poi ripartite sul 5, 7, 8 Stop! 5, 6, 7, 8 So, 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 so So, 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 so